Vere e proprie minacce postate su Facebook. Sono di Roberto Spada, considerato il reggente dell'omonimo clan che da anni controlla il litorale romano. Non ci toglierete il sorriso, scrive Spada, e poi giù insulti al senatore PD Stefano Esposito, commissario del partito ad Ostia Federica Angeli, giornalista di Repubblica, che vive sotto scorta proprio per aver denunciato gli affari leciti del clan mafioso sul litorale romano. Il Partito Democratico ha inviato ad Ostia il senatore Esposito proprio con l'obiettivo di combattere una difficile battaglia antimafia, uno sforzo giudicato insufficiente dal Movimento 5 Stelle. Il partito è ormai indifendibile, a nulla sono serviti i superassessori esterni ad Ostia, le responsabilità politiche di Marino, del PD e della maggioranza pesano come macigni sul malgoverno di Roma, si legge in un comunicato firmato, tra gli altri, da Marcello De Vito. I 5 Stelle chiedono l'istituzione di una commissione di inchiesta sul mondo di mezzo del clan Buzzi-Carminati, in cui finirebbe il dossier Ostia. Ma a sorpresa è proprio il senatore Esposito, con un altro post, a sostenere che l'impegno dei grillini non spaventa i mafiosi. Il reggente del clan è un fan di Alessandro Di Battista, sapete chi sono gli unici a non aver espresso solidarietà, non a me o al PD, ma Federica Angeli, proprio i 5 Stelle, scrive Esposito. E Matteo Orfini, che del Partito Romano è diventato commissario con l'arduo compito di riportare legalità, rincara con un tweet. A Roma la linea dei grillini non cambia, attaccare il PD e Marino, segnalo che è la stessa linea della mafia, e sempre il presidente del PD esorta. Non offendetevi dei miei tweet, leggete quello che scrive Esposito e riflettete. Sul controllo mafioso del litorale interviene anche il sindaco Marino. Nessuno negli ultimi vent'anni si era accorto di nulla. Perché nessuno prima aveva denunciato? È evidente che con noi c'è stato un cambio di passo, una chiusura della porta ai briganti, porte che, come affermato dal procuratore antimafia Pignatone, prima erano state aperte dalla giunta alemanno. Un impegno riconosciuto ieri anche dal premier Renzi, che in una lettera aperta ha espresso la vicinanza per lo sforzo di pulizia e riconquista di un futuro forte del PD a Roma. Grazie a tutti. Grazie a tutti.